E su indicazione ovviamente della questura noi metteremo un'ordinanza del divieto della vendita di alcolici per un raggio di 250 metri attorno allo stadio. Vendita di alcolici vietata nei pressi dello stadio Tenni e anche all'interno dell'impianto sportivo. E' una delle misure adottate in vista del derby con il maestro in programma domenica. La storica rivalità tra Treviso e le squadre veneziane, si ricordano le tensioni un anno fa in occasione dell'incontro con Spinea, hanno fatto scattare il piano per l'ordine e la sicurezza. Nel pomeriggio tavolo tecnico tra Digos, società bianco-azzurra e tutti gli altri soggetti coinvolti per approntare gli ultimi dettagli. Complice lo stop della Serie A sono attesi a Treviso rinforzi tra le forze dell'ordine con l'arrivo in città dei reparti mobili della polizia. Intensificati dunque i controlli dentro e fuori lo stadio. Non è stata invece accolta la richiesta della limitazione di 100 biglietti per i tifosi ospiti. Il numero dunque non sarà contingentato, ma non si attendono più di 150-200 persone nella curva del mestre e i tagliandi saranno esclusivamente nominali. È stata anche decisa la chiusura dal put di un tratto di strada Siora Adriana del Vescovo, dove affaccia la curva ospite, questo per permettere ai tifosi del mestre di accedere senza problemi al tenni. Saranno poi organizzati specifici servizi di viabilità per fornire ai supporter bianco-azzurri le indicazioni necessarie. Tutto è pronto dunque dal punto di vista della sicurezza per arginare ogni possibile tafferuglio tra tifoserie. Ma l'auspicio di tutti è che quella di domenica sia solo una giornata di sport. Invito i tifosi a godersi una domenica di calcio e di lasciare stare ogni tipo di rivalità che nulla ha a che fare con lo sport, l'appello del sindaco Mario Conte. Rimanga una bella partita di calcio, un momento di sport e non si scivoli su episodi spiacevoli di violenza che nulla hanno a che vedere con la città di Treviso e con la città di Venezia e di Mestre.